Gli ho già dato la seconda dose di clozapina, non c'è bisogno... Scommetto 50 dollari che il suo sport preferito è l'hockey. Come fai a saperlo? È un'intuizione. Come ti senti? Mi fa un po' male il braccio. Allora ti faccio aumentare un po' gli antidolorifici. Ah, ok, eh? Oh, me l'ha regalata mio nipote. Sa che sono un grande fan. Io odio l'hockey. Se si tratta di schizofrenia avrai bisogno di cure regolari. Ho trovato alcune istrutture che hanno uno staff medico a tempo pieno e offrono anche dei corsi di... Mi fa male il braccio. Diamo un'occhiata. Ai, è come se stesse andando a fuoco. Dobbiamo guardare sotto le fasciature. Oh, no, 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 non questo, questo. Ho trovato alcune istrutture che hanno un po' di più di più di... Grazie a tutti